Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 150esima puntata del podcast di Marcos Box. E torna di caldo, non ce la faccio più. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi i principali notizie del mondo del software libero open source. Prima di iniziare questa puntata, fatemi fare un grande in bocca al gruppo e un augurio di pronta guarigione ad Angelo. Angelo è uno dei lettori di Marcos Box, ci conosciamo anche di viso perché è un foggiano, quindi è anche lui di foggia ed è un appassionato di Linux. Sta avendo alcuni problemi di salute nell'ultimo periodo e gli faccio un augurio di pronta guarigione e che tutto, io gli auguro di qualche tutto, si risolverà nel migliore dei modi. Forza Angelo! E apriamo questa puntata parlando di distribuzioni Linux. E parliamo della prima distribuzione, parliamo di Debian, perché qualche giorno fa è stata rilasciata la prima point regresi di Debian 12. Debian 12.1 va a correggere bug, nella fattispecie va a correggere 89 bug che sono stati segnalati subito dopo il rilascio di Debian. E fornisce 26 aggiornamenti di sicurezza. In definitiva non toglieva nulla di nuovo, ma solo aggiornamenti ai pacchetti base utili per la sicurezza degli utenti. Perché è importante, è importante comunque da parte del team di Debian rilasciare queste point regresi perché ad ogni point regresi viene rilasciata una ISO aggiornata che porta con sé tutte le sicurezze. Quindi tutti gli aggiornamenti di sicurezza di correzione di bug. Quindi è utile per chi deve fare una nuova installazione di Debian che non si ritrova il sistema buggato fin dal primo minuto, ma con la ISO aggiornata già tutte le correzioni critiche. Se avete già installato Debian vi basterà aggiornare il sistema e va da sé che vi arriveranno tutti quanti gli aggiornamenti. Parliamo adesso di una nuova distribuzione che sta per arrivare e che interesserà credo a pochissimi utenti voi all'ascolto perché è una distribuzione particolare di nicchia che riguarda un tipo di computer che è di nicchia perché attualmente non penso sia diffuso tra voi i pinguini. Sto parlando di computer equipaggiati con processori Apple Silicon, quindi i nuovi MacBook Air equipaggiati con processori M1 e M2. Sapete bene che qualche anno fa è sorto il progetto Asai Linux volto a realizzare, ma io raccoglio tutti gli strumenti per realizzare, per consentire l'esecuzione di Linux su un computer equipaggiato con processore Apple Silicon. Bene, il team di Asai Linux ha annunciato sul blog ufficiale del progetto che la nuova distribuzione di punta di Asai Linux si chiamerà Fedora Asai Remix, ovvero sarà il remix che già esisteva, che era già stato pubblicato qualche tempo fa, il remix di Fedora in salsa Asai. Quindi Fedora Asai Remix sarà dunque la distro da scegliere per avere un'esperienza Linux completa e appagante sui computer equipaggiati con processore Apple Silicon. Ovviamente attualmente ci sono ancora delle cose da fare prima che venga data il via libera ufficiale rilascio della distribuzione, ma se tutto andrà per il verso giusto potremo vedere il primo rilascio ufficiale di Fedora Asai Remix entro la fine del mese di agosto 2023. Quindi restate sintonizzati, ne parlerò sicuramente nelle prossime puntate del podcast e ne parlerò sulle pagine del blog. Passiamo adesso a parlare della distribuzione Linux più amata e odiata del panorama delle distribuzioni Linux. Sto parlando ovviamente di Ubuntu, come avete di certo intuito. Ubuntu 23.10 eliminerà Liber Office, Thunderbird e altri programmi dalla sua installazione predefinita. Sì, avete letto bene. Il sentore di questo si era già avuto ad inizio luglio perché su Launchpad era apparsa una segnalazione di bug relativa alla rimozione automatica su Ubuntu 23.10, le versioni quelle daily, di diversi parchetti fra i quali troviamo software del calibro di Libre Office e Thunderbird. All'inizio sembrava un bug, una qualche cosa non voluta, ma poi si è scoperto che è una scelta ben precisa da parte degli sviluppatori della distribuzione che hanno deciso di ridefinire i set di applicazioni preinstallate sulla distribuzione. Ufficialmente lo fanno per ridurre le dimensioni della ISO e avere meno cose da testare prima del rilascio della distribuzione. E di fatto adesso se provate a installare il build generale di Ubuntu 23.10, sia Libre Office che Thunderbird sono spariti dai programmi preinstallati, ma sono spariti anche applicazioni come Rhythmbox, Remina, Shortwave Cheese, Simple Scan e Transmission. Ora, ma non so a voi se la scelta di rimuovere Libre Office pare una scelta saggia. A mio avviso è una corberia, diciamo così, una cosa molto poco intelligente. Perché? Perché Ubuntu è una distribuzione rivolta agli utenti che non sono utenti smanettoni, ma sono utenti che magari si affacciano alle prime armi nel mondo Linux e si ritroveranno adesso con una distribuzione scarna, che non ha una serie di applicazioni base preinstallate, applicazioni che uno ci si aspetta di trovare da tempo, che noi utenti affezionati ci aspettiamo da una vita di trovare applicazioni come Libre Office, ma gli utenti novizi si ritroveranno senza poter aprire il Word, cioè i documenti di testo senza poter aprire quelli, e dovranno andarselo a installare in seconda battuta, dovranno andarsi a cercare il programma. Secondo me, ripeto, rimuovere la suite da ufficio, i player, e anche i player musicali mi sembra una scelta poco saggia. Trasmission, anche il cheese, simple scan, potrebbero anche, ci può anche stare. Di fatto Ubuntu quindi diventa, mi diventa come una qualsiasi derivata di Ubuntu, tipo PopOS, che PopOS mi sembra anche, no, PopOS mi sembra che nell'ultima versione c'era anche Libre Office, quindi mi sembra che stavo dicendo una fesseria. Comunque, è una scelta poco saggia, a mio avviso, e vi dicevo, ufficialmente è dettata dalla motivazione di ridurre le dimensioni della ISO, avere meno cose da testare, però secondo me io ci vedo un po' il male in questo, perché secondo me stanno pensando di, magari uno lo avvia il software center, l'Ubuntu software center, l'installatore applicazione di Ubuntu, lo store di Ubuntu, e verrà propinata di sicuro come prima scelta la versione snap di queste applicazioni. Io me lo sento come, me lo sento qua, me lo sento, cioè, secondo me sarà così, questo è il vero motivo. Quello di spingere ancora di più su un'installazione inconsapevole di pacchetti in formato snap, che poi è anche quello che si vocifera, accadrà alla fine con la prossima LTS di Ubuntu, che sarà completamente snap centrica. Già le prime avvisali ci sono state con alcune dichiarazioni. e questo ci dà molto da pensare, e sta dando molto da pensare anche a altre distribuzioni basate su Ubuntu, questa scelta. E, realizzandovi al discorso di snap e non snap, come non parlare della derivata per eccellenza di Ubuntu, ovvero di Linux Mint, la derivata più famosa e anche più utilizzata. Il mese di luglio è finito e, come di consulito Clement Refebvre, ci torna a parlare degli sviluppi di Linux Mint, di cosa bocca in pendola e ci fa il punto della situazione, anche sullo sviluppo di Cinnamon. La prima notizia che questo mese ci porta a conoscenza, Clement, riguarda il fatto che sono iniziati i lavori di sviluppo di Linux Mint Debian Edition C. La prossima versione avrà il nome in codice FAIE, ovviamente sarà basata sull'ultima versione di Debian, la Debian 12, e arriverà con tutte le funzionalità le modifiche introdotte su Linux Mint 21.2. Ancora non sappiamo quando arriverà di preciso, arriverà quando sarà pronto, è stato detto. E fanno bene ad agire in questa maniera. Una volta che tutto sarà pronto, gli sviluppatori di Linux Mint accoglieranno anche l'opportunità, in questo caso, per lavorare su funzionalità aggiuntive e vedere di ridurre ulteriormente il divario di funzionalità tra Linux Mint e Linux Mint Debian Edition. Parallelmente al rilascio di Linux Mint Debian Edition C, gli sviluppatori stanno anche pianificando il rilascio di una ISO Edge di Linux Mint 21.2 con il kernel Linux 6.2, che dovrà, l'idea è quella di rilasciare questa ISO con il kernel più aggiornato per semplificare l'avvio di Linux Mint su hardware nuovo di Zecca. Guardando poi più avanti, dopo Linux Mint Debian Edition C e dopo la ISO Edge, a Natale 2023 arriverà Linux Mint 21.3. Questa nuova versione semestrale della distribuzione si concederà principalmente sul ragionale strumento di produzione delle ISO e di correggere i problemi con Secure Boot. Oltre a questo, il team ha detto che sta studiando, studierà, o meglio, i pro e i contro di Wayland e valuterà il lavoro necessario per la sua potenziale adozione. Anche se credo che l'adozione di Wayland su Cinema arriverà tardissimo, perché il team di Linux Mint è molto conservativo e, diciamoci, non hanno così grande potenza di fuoco con tanti sviluppatori per poter sviluppare il tutto. Rilacciandoci al discorso di Snap, non Snap, del fatto di Ubuntu 24.04 che sarà molto Snap-centrica, gli sviluppatori di Linux Mint stanno portando, stanno anche cercando di capire il nuovo corso di Ubuntu e stanno cercando di vedere come muoversi in futuro per lo sviluppo di Linux Mint che, come sapete, da anni si è dichiarata contraria al formato Snap perché le ultime versioni di Linux Mint hanno epurato ogni traccia di pacchetti in formato Snap. C'è da vedere come si comporterà il team di Linux Mint che sia la volta buona che il piano di riserva Linux Mint Debian Edition diventerà operativo e alla fine Linux Mint sarà basato su Debian soltanto su Debian? Chi lo sa? Vedremo nei prossimi mesi, vedremo come si evolverà l'anno prossimo con il rilascio della prossima RTS di Ubuntu che cosa deciderà il team di Linux Mint se si sobbarcherà il lavoro di dover togliere tutti i pacchetti in formato Snap propinati da Ubuntu o se magari deciderà appunto di tagliare la testa a toro o far fuori l'edizione basata su Ubuntu e dedicarsi esclusivamente all'edizione basata su Debian il cui scopo era proprio quello il scopo della Debian Edition era se succede qualche cosa a Ubuntu abbiamo un piano di riserva per poter portare avanti la distribuzione speriamo sinceramente che non succeda un evento divisivo per il team di Linux Mint con Ubuntu perché fino ad ora gli è andata bene e ho apprezzato l'edizione di Linux Mint basata sulle versioni stabili di Ubuntu e sulle versioni RTS di Ubuntu perché il team di Linux Mint ha riuscito veramente a dare una distribuzione solida, facile da utilizzare, amichevole per gli utenti nuovi ma è anche tantissimo apprezzata da parte anche degli utenti vecchi scusate se ho utilizzato il termine vecchio però mi sto rendendo conto con il blog, con i commenti che mi arrivano con le cose che regolano che molti utenti, quelli un po' più datati quelli che utilizzano Linux da anni stanno cominciando ad apprezzare Linux Mint anche Linux Mint Debian Edition e stanno iniziando ad apprezzare Debian perché la gente quando, diciamo così quando uno è giovane, gli piace provare 50.000 cose nuovi desktop environment e quant'altro però uno alla fine si accorge che un ambiente desktop tradizionale con una distribuzione stabile fa sempre piacere di poterla utilizzare quindi i team di Linux Mint ha fatto delle cose belle anche se molto spesso vengono sfottuti per via dell'orlisto ma secondo me sono in gamba cambiamo adesso l'argomento e passiamo ai rilasci delle applicazioni lo scorso 24 luglio c'è stato il rilascio della nuova versione di Inkscape che giunge alla versione 1.3 quali sono le principali novità di Inkscape 1.3? beh, le principali novità riguardano le prestazioni che sono state notevolmente migliorate sono state poi introdotte diverse nuove funzionalità che potete andare a leggere sulle pagine di Marcosbox sull'articolo dedicato e infine sono state anche apportate alcuni miglioramenti ad altre funzionalità già esistenti vi dicevo che le principali novità riguardano il miglioramento delle prestazioni del software alcune attività di rendering più pesanti sono state separate internamente per migliorare le prestazioni per esempio durante lo zoom il panning, la trasformazione degli oggetti e quant'altro altra novità interessante riguarda il modo in cui vengono sfruttati i core del computer adesso per l'impostazione predefinita inkscape sfrutta la potenza di tutti i core del computer quando esegui il rendering degli oggetti ma è possibile comunque per chi lo preferisce cercare di limitare insomma la potenza motocicletta che dovrà passare a tutta velocità ma è possibile comunque scegliere di limitare la potenza all'interno delle preferenze se non volete dare tutta la potenza non vedo perché non volete dare tutta la potenza quando lavorate i core l'avete comprati e sfruttati comunque dicevo per maggiori informazioni vi rimando all'articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox dove trovate una panoramica delle principali novità e torniamo adesso a parlare dell'Overture Maps Foundation che ha pubblicato finalmente il suo primo set di mappe open source e gratuite questo primo riascio include 4 livelli di dati univoci luoghi di interessi, edifici, reti di trasporto e confini amministrativi questi livelli che combinano varie fonti di dati cartografici aperti sono stati convalidati e fusi attraverso una serie di controlli di qualità e includono quasi 60 milioni di luoghi in tutto il mondo sapete bene chi fa parte di questa fondazione troviamo Meta, troviamo Microsoft, troviamo OpenStreetMap troviamo comunità di OpenStreetMap ma troviamo anche Amazon e altri big dell'informatica che si sono consorziati finalmente hanno capito che bisogna consorziarsi per realizzare un prodotto finalmente concorrente con il servizio di mappe di Google speriamo che il progetto vada avanti e speriamo di vedere qualcosa di tangibile prossimamente con navigatore e quant'altro perché è davvero interessante e passiamo adesso a parlare di una notizia che sta facendo il giro del mondo e che sta riscuotendo preoccupazioni da ogni parte è una notizia che riguarda Google e di una sua recente proposta per introduzione all'interno del codice di Chromium in realtà, spoiler, l'ha già fatto perché alcune funzionalità sono state già introdotte in via sperimentale nel codice di Chromium questa nuova API chiamata Web Environment Integrity che secondo Google dovrebbe aumentare il livello di sicurezza del web è una sorta di DRM del browser che cosa fa questo di fatto? detto in parole semplici quando noi ci andiamo a connettere su un sito cui server integra questa API noi comunicheremo con il sito il sito chiederà un token criptografato che attesti che il browser in questione il dispositivo in questione sia un dispositivo autorizzato diciamo tra virgolette che magari stiamo utilizzando un browser sicuro un dispositivo sicuro e quant'altro questa verifica di questo token verrà tramite un servizio terzo quindi che ne so il server si connetterà con un fornitore di servizi un account per esempio Google dirà ehi Google questo qui si sta provando a connettere con il mio sito che faccio? lo autorizzo? secondo te è un client fidato è buono Google dirà si si autorizzalo e noi potremmo avere accesso alla pagina Google o qualsiasi altra questa altra società che autenticherà questi token dirà no questo qui magari è un bot questo che sta tracciando i web è una cosa che non mi piace oppure non sta utilizzando una versione conforme di un browser web e gli dirà no tu non lo fai navigare è una cosa brutta perché è una cosa brutta perché perché di fatto va a introdurre un DRM per le pagine web rendendo quasi impossibile anche il blocco degli annunci pubblicitari dei browser in quanto per esempio questa API potrebbe rilevare o bloccare più facilmente gli adblocker dice dopo il controllo dei token vede che hai un'estensione per bloccare la pubblicità e dice ah no no allora quello non lo faccio entrare sul sito non lo faccio visualizzare il sito oppure potrebbe anche essere una cosa ancora più grave perché i siti web potrebbero utilizzare i token per tracciare gli utenti su diversi domini o servizi oppure usarli per imporre restrizioni geografiche o di censura ovviamente si è scatenata l'ira del web secondo Brian Greensted l'ingegnere di Mozilla questa API è contrario ai principi della visione del web di Mozilla perché questa API è dannosa per l'intero ecosistema web e non è utile per gli utenti anche Brandon H il cofondatore CEO di Brave ha definito questa API come una pura spazzatura introdotta da Google in Chromium e ha confermato l'impegno da parte del team di Brave nel rimuovere dal proprio browser queste e altre modifiche spazzature inserite da Google in Chromium anche anche l'ingegnere di Vivaldi Julian Piccalausa ha definito questa API pericolosa perché conferisce potere e controllo alle entità decisionali infine si è fatta sentire anche la FreeSoft Effondition che si è dichiarata contare in quanto questa API minaccia la libertà di navigare su internet con il browser che noi preferiamo è una cosa grave è un attentato grave che Google sta portando al web libero si sembra una cosa apocalittica però di fatto è così perché se una API di questo tipo dovesse prendere piedi sui server come vi dicevo potrebbe essere per esempio utilizzata per evitare la connessione di un browser quando è presente una di blocker che questo di fatto è il sogno è il sogno quello è il sogno proibito di Google negli ultimi anni quello di di castrare di bloccare tutti quanti gli adblocker Google recentemente sta facendo degli esperimenti per bloccare l'accesso a YouTube in caso di adblocker e bannare direttamente gli utenti in caso di ripetute violazioni Google ha cercato di introdurre ad esempio all'interno del codice di Chrome di fatto con il manifesto con la versione del manifesto di andare a a ridurre le capacità degli adblocker di agire sui browser basati su Chromium quindi Google di fatto quello l'idea di Google a mio avviso quella di bloccare l'utilizzo di adblocker e altri strumenti simili perché va a intaccare le sue fonti di guadagno e potrebbe anche riuscirci perché di fatto se introduce questa API non obbliga nessuno a introdurre però se tu sei un sito di un quotidiano che utilizzi il circuito in networking di Google per la pubblicità anche tu sarai più propenso ad utilizzare questa API per poter bloccare eventualmente l'accesso al sito da parte di gente che ha la dblocker in maniera più facilmente più facile dicevo e non lo so io la vedo la vedo male la vedo tragica ed è preoccupante questa questa svolta malvagia di di Google per quanto riguarda il controllo del web ed è anche il motivo per il quale io continuo a ripetere da anni che tutta questa caterba di browser basati su Chromium è il male perché non c'è biodiversità all'interno del panorama dei browser web attualmente l'unica vera alternativa l'unico vero browser che non è basato su Chromium l'unico browser famoso non basato su Chromium è Firefox il resto Brave Vivaldi Opera Edge sono tutti basati su Chromium e sono costretti a sottostare alle modifiche che Google spedisce in Chromium speriamo che Google rinsavisca e decida di eliminare questa controversa API che va a tracciare gli utenti e noi vedremo capiremo che cosa accadrà nei prossimi mesi con questo detto tutto si conclude qui questa centocinquantesima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi invito a seguirmi sulle principali piattaforme social facebook anzi non devo dire più twitter devo dire x perché ha cambiato nome youtube linkedin mastodon telegram dove sono l'attivo con il canale ufficiale delle notizie la community telegram e anche il canale telegram dedicato alle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando prodotti amazon utilizzando il mio codice referral che trovate comunque esposto anche sulle pagine di Marcosbox infine potete supportare il blog anche acquistando una vpn a vostra scelta tra surfshark tra nordvpn e tra atlasvpn fanno parte tutte e tre della stessa famiglia su Marcosbox trovate un link che vi spiega quali sono le principali differenze tra queste vpn e come poterla supportare il blog acquistando una vpn o rinnovando la vostra vpn utilizzando il mio codice referral che trovate nell'articolo lunga vita e prosperità a tutti quanti e buone vacanze grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti